Berlusconi ci ripensa e annulla il tanto annunciato incontro con una delegazione dei Forconi, che da giorni manifestano in numerose città italiane e creano notevoli disagi. La motivazione è che il Cavaliere non intende prestarsi a possibili strumentalizzazioni, ma l'ex Premier passa la palla a Palazzo Chigie e torna a chiedere al Governo di farsi subito interlocutore di chi protesta. E il Ministro Lupi annuncia che li abbiamo già convocati per martedì della prossima settimana. Il Cavaliere dunque preferisce rallentare, non aprire un ombrello politico sulle manifestazioni, che a volte entrano in contrasto con commercianti e piccoli artigiani. Così rischia di lasciare a grillo il tentativo di cavalcare il malcontento, anche se i Forconi ci tengono a gridare ai 420, che respingeranno tutti i tentativi di guidare i movimenti da parte di partiti e politici. Eppure tra le fila di Forza Italia c'è chi preferisce di farsi interprete diretta delle migliaia di persone che scendono in piazza dal nord al sud, come Daniela Sandanchè che si dichiara vicina ai dimostranti e spiega sono mesi e mesi che li ascolto perché credo che loro siano una parte del nostro paese che sta veramente in ginocchio. E poi a otto e mezzo annuncia, a sorpresa, l'incontro con alcuni rappresentanti dei Forconi. C'è stato con una delegazione di autotrasportatori che hanno avanzato una richiesta in quattro punti, senza chiedere soldi, ma aiuto. Comunque Berlusconi preferisce defilarsi, sia perché Grillo ha alzato un po' troppo i toni, arrivando addirittura a invitare la polizia a smettere di obbedire ai potenti, e sia perché la sua apertura ai Forconi non era piaciuta al suo elettorato di riferimento, i rappresentanti di commercianti e imprenditori avrebbero storto il naso. Intanto l'impressione è che la protesta con il passare dei giorni stia cambiando natura, come dimostrano gli allarmi che arrivano dal Viminale, che punta il dito contro le possibili infiltrazioni, ma il ministro dell'Interno Alfano assicura useremo tutta la forza necessaria contro i violenti. E il neosegretario della Lega Nord si mette dalla parte del movimento di protesta. Dopo il voto di oggi sulla fiducia al governo, dice Matteo Salvini, i Forconi dovrebbero entrare in Parlamento.